Martedì 28 aprile, buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con occhi ai giornali, l'appuntamento con il commento alla stampa del giorno, sono le 7.47 dagli studi di Fano TV in via Paolo Borsellino, siamo pronti per leggervi, commentare la stampa, i giornali, il Corriere Adriatico, il resto del Cardino, le pagine che abbiamo deciso di selezionare e di farvi vedere in anteprima sul nostro touchscreen tra poco. Come di consueto vediamo il Santo di oggi, è molto importante per noi che amiamo la Vergine Maria perché è un Santo che ha scritto un trattato bellissimo sulla vera devozione alla Vergine, ovvero San Luigi Maria Grignon de Montfort. Il sole sorto alle 6.03 tramonterà alle 20.08, il tempo per quanto riguarda la giornata di oggi lo vedete sul vostro teleschermo a casa, sul televisore, è un'animazione che ci rende subito a colpo d'occhio l'idea di come sarà questa giornata con precipitazioni, piogge nel primo pomeriggio, rovescio, temporali sparsi nelle zone collinari, localmente trascinate poi lungo la costa dai flussi in quota. Le temperature sono in lieve diminuzione nei valori minimi per quanto riguarda invece la giornata di domani, ancora nella prima parte della mattinata avremo rovescio temporale in esaurimento però già da fine mattinata. Le temperature domani saranno in aumento nei valori massimi. Per giovedì invece il tempo migliora anche se sarà un po' nuvoloso e soffieranno venti fino a vento forte nelle zone collinari e burrasca forte invece nelle zone montane. Nella giornata di venerdì sarà possibile un peggioramento seguito poi da un miglioramento grazie all'anticiclone. Allora adesso andiamo a leggere i giornali. Siamo in attesa della fase 2, come dicevamo, a partire dal 4 di maggio. Sono tantissime anche oggi le polemiche, sono tanti oggi anche coloro che si dicono contrari a questa decisione del governo contro il DPCM. Insomma, tanti malumori, tanti mal di pancia e in tutto questo contesto oggi fa piacere leggere sul Corriere Adriatico quanto segue e lo vediamo subito. Messe e parrucchieri, io ci provo. Chi ci prova? Ceriscioli. Clamorosa presa di posizione di Ceriscioli dopo il decreto del governo che chiude i negozi fino all'inizio di giugno. Proviamo il nostro protocollo e tagliamo tempi e capelli e subito sì alle funzioni religiose se in sicurezza. Intanto sono tornati al lavoro quelli della BS, esordio blindato, la fase 2 è già iniziata grazie ad un protocollo con i sindacati per la sicurezza negli ambienti di lavoro, mentre le mascherine a 50 centesimi, lira dei farmacisti come i fornai del Manzoni. Molti probabilmente non se lo ricordano, ma ci pensa il dottor Calcatelli che davanti al prezzo calmierato di 50 centesimi appunto, annunciato per le mascherine chirurgiche dal Premier Conte, evoca l'assalto al forno delle grucce del novembre del 1628. A Pesaro torre da otto piani in via Gioliti, la minoranza però si schiera contro questa decisione, rovinerebbe il panorama, Skyline rovinato, un nuovo stabile nell'area della vecchia Coppa, un ex convento di via Guidi, si pensa al co-housing. Il resto del Calino di Pesaro, mobile meccanica, la ripartenza, Vitri, BS, Profiglass, alcuni grandi marchi si rimettono dunque in moto. Fase 2, la raffica delle proteste, parrucchieri e ristoratori scendono in piazza, la rabbia anche dei sacerdoti, fateci riaprire le porte ai fedeli. Mascherine vendute a 0,50 ci guadagnano solo i cinesi. E poi sotto i diportisti, all'arribaggio, fateci navigare, test sierologici su 700 sanitari, solo 30 sono risultati positivi. E la responsabile dello screening dice soddisfatta, vuol dire che le protezioni hanno funzionato. E allora andiamo a vedere queste due pagine che il Corriere Adriatico pubblica questa mattina su questa sperimentazione, su un protocollo, chiaramente basandosi poi su un protocollo, che il Governatore Luca Ceriscioli vorrebbe organizzare insieme alle associazioni di categoria, Confartigianato Marche, per esempio CNA Marche. L'idea di anticipare l'apertura di centri estetici e parrucchieri. È nata ieri, in maniera casuale, da un incontro fortuito tra Ceriscioli ed il segretario di Confartigianato Marche, Giorgio Cipitelli, che vedete nella fotografia qui sotto, nei corredoi di Palazzo Raffaello, ad Ancona. Non era un incontro organizzato, dice e precisa Cipitelli, lui dice ero in regione per altri motivi e mi sono fermato a parlare col Presidente, pur restando a debita distanza. Ovviamente sia chiaro, nel parlare di vari argomenti abbiamo iniziato a sviscerare, sviluppare questo ragionamento sul settore e la Regione si è mostrata sensibile al riguardo. Andiamo avanti, in primis stiliamo una sorta di manuale teorico, ovvero le istruzioni per l'uso sui comportamenti da tenere. Poi, ecco il punto, le sperimentiamo sul campo in una decina tra centri estetici e parrucchieri per vedere come funziona, per vedere se soprattutto funziona. Il nostro auspicio è riuscire a far ripartire il settore per metà maggio, anche prima, se la sperimentazione procede bene. Questo è buonsenso. Tra le ipotesi da verificare poi nella pratica, quella della sanificazione delle postazioni, del locale, oltre ovviamente all'attrezzatura, cose che però già avveniva anche prima, quando c'è il cliente, dopo ogni cliente, tra un cliente e l'altro, insomma facendone entrare uno alla volta, oppure nel caso di saloni abbastanza grandi, un numero tale da consentire comunque il distanziamento. L'attività andrebbe svolta solo su appuntamento, le persone eventualmente in attesa dovrebbero comunque restare fuori o insomma a distanza. Tutti, sia fornitori del servizio che i clienti, devono indossare indossando mascherine e guanti e quindi meglio aprire, dice ancora, per un cliente alla volta che restare chiusi, commenta il segretario della Cigia, perché i costi fissi li stanno comunque pagando e almeno non si perdono quote di mercato. E la CNA dice, fa un elenco di quanti sono i saloni di barbieri e parrocchieri, sono 3.000 nella regione Marche, 1.287 gli istituti di bellezza, 17 quelli che si occupano di manicure e pedicure e che impegnano in tutto quasi 9.000 addetti. Dunque staremo a vedere se questa sperimentazione si potrà provare sul campo, magari appunto con una decina di persone, di commercianti, di professionisti e poi vedere se funziona. Poi c'è l'altra pagina, vedete, sta pensando la scorciatoia, c'è un punto di domanda e in questo caso si parla perché Cerisciole vorrebbe anticipare anche in questo senso la riappertura delle chiese, anche se lo diciamo giornalisticamente non è corretto perché le chiese sono comunque aperte, molti stanno dicendo, ma evidentemente sono un po' i fedeli quelli un po' così, che insomma a loro va bene anche andare solo per accendere la candelina la domenica, scusate anche quando le chiese anzi sono vuote, forse per loro anche meglio, ma non è così, è un po' una fede fai da te che lascia il tempo che trova. Comunque la Messa è per il cristiano fondamentale, le celebrazioni eucaristiche, come dice anche Piero Coccia, l'Arcivescovo di Pesaro, per un credente è un dato vitale, un elemento che fonda la vita del credente e dunque è fondamentale che torni al più presto anche la celebrazione della Santa Messa. Qui c'è, in questa pagina ci sono alcuni vescovi, arcivescovi, il cardinale Edoardo Menichelli che è il più prudente di tutti probabilmente, era uno che di solito non le mandava a dire, invece in questo caso dice molto prudente, dice no, atteniamoci a quello che è il comunicato della conferenza episcopale italiana. Ma chi è andato veramente giù duro, a me è piaciuto tantissimo invece, Monsignor Giovanni D'Ercole, il vescovo di Ascoli, che ve l'abbiamo fatto vedere anche nel telegiornale di ieri sera, lo avete in replica, lo potrete ascoltare in replica alle 11 e alle 13 e 50 circa, D'Ercole che è stato durissimo e dice queste chiusure avvengono solo nei regimi totalitari come la Cina, il governo italiano avrebbe dovuto dettare alcune linee guida e la Chiesa al suo interno le avrebbe applicate perché ha le capacità di farlo. Volendo entrare troppo nel dettaglio, sulla questione dei funerali il governo si è coperto di ridicolo, non avrei spento la fiamma della fede in questa maniera, la Chiesa tiene aperta la porta della speranza alla gente. È una sintesi, ma in realtà è stato molto più ficcante, molto più duro. Ricominciare, come dicevamo, Coccia dice è di vitale importanza, poi annuncia, essendo Piero Coccia anche il presidente della conferenza episcopale marchigiana, annuncia che sul tavolo c'è l'idea di riunirsi tutti i vescovi dopo il 4 di maggio, ma insomma ci dobbiamo, dice, confrontare. Il Carlino invece ha interpellato quattro sacerdoti, due di Pesero e due di Fano, nello specifico Don Marco De Franceschi della Chiesa del Porto, Don Marco Di Giorgio che invece è della Chiesa di San Luigi Gonzaga, poi Don Giovanni Frausini di San Pio X e il padre Gianfacco Casegrande della Chiesa di San Giuseppe al Porto. Ora, per quanto riguarda Don Marco De Franceschi, dice, questa decisione, riferendosi chiaramente a Conte, è incomprensibile, soprattutto un controsenso. Possono riaprire i parchi ma non le chiese, ma di questo passo noi quando possiamo riaprire i fedeli? La gente ha bisogno di... i parrocchiani chiedono sempre di più di poter tornare a celebrare, cantare, partecipare. Dunque, come si fa con il rispetto delle distanze? Abbiamo tante chiese grandi, dice ancora, stare lontani per noi, da noi è semplice. In più, si indosseranno le mascherine. Aumenteremo il numero delle messe per permettere a più persone possibili di partecipare. Un aumento che potrebbe pesare e non poco, vista la cronica carenza di sacerdoti, ma in realtà, lui risponde, ci siamo riposati abbastanza, quindi ci fa solo piacere lavorare di più. Don Giovanni Farusini, da parrocchia di San Pio X, dice che pur di conservare le celebrazioni domenicali, c'è gente che ha subito il martirio. Da parte nostra la sospensione della messa è stata decisa, non certo perché c'è una legge che ce lo impedisce, ma come segno di attenzione e di affetto verso le persone, soprattutto verso gli anziani e i bambini. Ma una cosa interessante la dice padre Gianfranco Casegrante, della chiesa del porto di Fano, che dice per le cerimonie funebri e soprattutto preoccupa il limite dei 15 partecipanti. Ora qui si pone degli interrogativi. Chi dovrebbe regolamentare il numero? Si chiede padre Gianfranco. Le pompe funebri oppure le forze di polizia? E se i partecipanti fossero 20, ci dovremmo mettere a discutere davanti alle chiese e durante i funerali che sono momenti dolorosi per le famiglie, i parenti e gli amici? Eh già, e queste sono cose pratiche che però meritano una risposta. Alla ristorazione prevediamo 5.000 esuberi, rabbia, delusione per la doccia fredda sulla riepertura, costi più pesanti, incassi ridotti. Qui non ripartiremo più. Anche il Corriere questa mattina sul giornale interpella 5, 6, anche più, di ristoratori. Sono tutti sull'avvilito. Anche il take away, il prende e porta a casa, il cibo d'asporto, insomma, non è partito granché bene. Poi l'ingiustizia, noi più pronti di altri settori, parlano le estetiste, i parrucchieri che si sentono penalizzati, le misure di igiene in vigore le abbiamo già da prima del virus, dicono in queste interviste. Intanto cerchiamo di capire come garantire la sicurezza. Anche il Carlino ne parla con il titolo parrucchieri in rivolta, e così chiudiamo il decreto che ha rimandato l'apertura degli esercizi scatena la protesta. Un favore, praticamente questo, agli abusivi, che invece stanno lavorando, stanno lavorando anche tanto. Il 4 maggio hanno deciso di andare in piazza. Intanto le fabbriche salvate dall'export, la BS, la Profiglass e la Vitri, ripartono. Nella multinazionale occupate 500 dipendenti su oltre 2.000, ha chiesto il rinvio anche Benelli Armi. e noi abbiamo, dice Lorena Fulgini, interpretato che conta avere almeno il 50% della quota di esportazione. BS, rientro blindato in azienda, tornano in 350, titolo del Corriere, firmato un protocollo di sicurezza con i sindacati, definiti percorsi d'accesso, sottoposti al test del sangue, tutti i dipendenti prima di potersi mettere al lavoro. Intanto dicevamo il lavoro nero che ha cifre da capogiro, rischiamo di raddoppiarle su 238 aziende controllate, 225 presentavano anomalie nelle contratualizzazioni. Il 20% della manodopera locale è occupata regolarmente in crescita, anche l'evasione fiscale. Ospedale obiettivo no Covid, un mese per la normalità, il piano dell'Asur Marche per la chiusura graduale delle aree con positivi, entro la fine di maggio. I ricoveri sono scesi da A725 dopo il picco di 1168 del 29 di marzo. In terapia intensiva, al momento, nelle Marche sono ricoverate 58 persone. Su 700 operatori sanitari, solo 30 positivi, Marche Nord la sorpresa dei test sierologici, esami fatti su base volontaria, solo il 2,2% ha sviluppato anche gli anticorpi. La responsabile dice la protezione individuale dunque ha funzionato. Il risultato finale è un dato fondamentale che permetterà non solo di chiarire quanto il virus circola o ha circolato tra il personale esposto a diversi gradi di rischio di infezione rispetto alle mansioni svolte, ma anche di avere una bussola per aprire i reparti nella fase 2. Tavoli anche sui marciapiedi, torniamo a parlare di economia, di lavoro, spazi pubblici che sono da utilizzare. La giunta di Pesaro boccia l'idea di usare le ciclabili, ma apre alle altre proposte di Confcommercio. Le decisioni coinvolgeranno anche la ZTL. Il Paso dice meno TOSAP per i locali impossibilitati. Musica altissima e testate al muro. Finisce in caserma e si becca una denuncia per resistenza. La storia è iniziata intorno alle 22.30 di domenica sera quando un lituano di 22 anni che era a casa in Via Velino in compagnia di due amici intente ad ascoltare musica a tutto volume. I vicini hanno chiesto se potessero in qualche modo, potevano abbassare la musica, ma per tutta risposta lui li ha trattati mali e sbattuto la porta in faccia. Così i dirimpetai esasperati da questo suono, da questa musica assordante, hanno staccato la corrente a tutto il condominio e chiamato i carabinieri. I ristoratori consegnano le chiavi. Siamo sulla pagina sempre di Pesaro, ma in riferimento anche a Fano. Vedete qui la fotografia che si riferisce alla prima manifestazione di protesta a debita a distanza dei ristoratori fanesi all'interno del giardino in Via San Francesco del municipio di Fano. Due giorni di protesta, dicevo, oggi luce accese nei locali, domani in fila per due davanti ai primi cittadini, a Pesaro una scatola in Piazza del Popolo. Sono le manifestazioni di protesta che stanno organizzando i ristoratori, quasi 300 tra i ristoratori e i baristi della provincia che si sono già iscritti, altri probabilmente si uniranno alla schiera all'ultimo minuto, però sono più di 100 solo a Fano, gli altri 80 nella città di Pesaro e poi tutti gli altri imprenditori della ristorazione sparsi nei vari comuni fino agli estremi confini della regione. L'attacco è questo, ci hanno lasciati soli con le nostre spese, la liquidità promessa che fine ha fatto e già si parla, si sente dire 50 miliardi lì, 20 miliardi là, su, giù, poi tutto rimane così com'è. Ma la metà degli imprenditori resistiamo solo poche settimane, ConfCommercio un sondaggio su come le imprese stanno affrontando le ansie collegate al virus. Intanto si parla ancora di mascherine a 50 centesimi, i farmacisti dicono noi siamo stati trattati come fornai dei promessi sposi. Calcatelli, presidente dell'Ordine di Ancona, dice il prezzo è fuori mercato, la regione è costretta a rivedere le condizioni per una maxi fornitura. Intanto sui nuovi positivi siamo al minimo, ma i morti ora sono 893, l'aumento è sceso allo 0,3%, tamponi fatti anche in auto. E poi la via stretta del credito, solo una volta su quattro c'è il sì al prestito lampo. I primi dati completi dalle BCC e Carifermo, che riguardano le banche marchigiane, confermano che le linee sotto i 25 mila euro passano a fatica, servono integrazioni. L'esperto, il denaro non è dello Stato, ma di soci e clienti, il merito del cliente conta. E questa è la situazione per chi è costretto a chiedere prestiti e quindi a indebitarsi. Il ritorno dei nonni Sittari, invece, con l'incognita dei parchi, lunedì finirà la quarantena degli affetti, ok agli spostamenti per visitare i congiunti. Abbiamo detto ieri sera nel corso della diretta con il sindaco di Fano Massimo Seri che congiunti significa anche fidanzato o fidanzati, quindi legami affettivi comunque stretti e non solo sanguigni, quindi non solo la visita al nonno o alla nonna, al papà o alla mamma, ma anche tra fidanzati si può andare. Questo è quello che è stato deciso poi in corsa. Pronti a riaprire i parchi, ma stabiliamo i controlli. Ricci, sindaco di Pesaro, abbiamo bisogno della collaborazione di volontari e municipali. Oggi in giunta sarà affrontata la questione e la mappatura di tutte le aree. Poi dalla pagina di Pesaro e provincia, sia la torre, sempre a Pesaro, da otto piani in via Giolitti, l'opposizione frena, Scalain rovinato, un nuovo stabile nell'area della vecchia Coppa. Per l'ex convento di Via Guidi invece si pensa al co-housing. Location, qui siamo in un... questo è il castello di Granarola. C'è questo sì ad ampliare questo castello che si trova a due passi dal castello di Gradare. Il comune di Pesaro e Gradare affavorevoli al progetto dell'imprenditore Morosini, però c'è l'incognita sui tempi. Intanto addio Giancarlo Renzi, fu il primario di psichiatria, se n'è andato a 86 anni, da diverso tempo era malato, per quasi 30 anni, dicevamo, è stato primario di psichiatria, prima al San Benedetto di Pesaro e poi al Santa Croce di Fano, a cavallo tra i primissimi anni 80 e i primi anni 2000. Aveva 86 anni, da diverso tempo era malato, Renzi si trovò a gestire la delicata fase di passaggio e transizione, dopo l'entrata di vigore della legge Basaglia. E questa è la fotografia dell'ex primario. Poi da Fano invece, fatemi subito il tampone, o la mia azienda fallisce, è preoccupatissimo Davide Braceschi, guarito ma confinato in casa, si era ammalato il 30 marzo e ora sta bene, però a rischio la sua attività, perché fino a quando, come dicevamo, abbiamo detto spesso e ripetuto spesso, insomma fino a quando non c'è l'esito del doppio tampone, quindi non c'è un certificato scritto, non si può uscire di casa. 3.000 euro invece, e questo è un caso che racconta sempre il giornale questa mattina, il Carlino, 3.000 euro per cremare mamma, Bergamo invece perché costa 778, si parla della scomparsa, della bella, dolce e sorridente Luisella Montisci, 77enne sarda, fanese d'adozione, come tutti, non meritava di morire di Covid, ma ancora meno meritava la figlia di ritrovarsi in quell'ingranaggio disumano in cui sono finiti gli affetti più cari delle vittime del coronavirus, morte a metà marzo, quando ancora di questo virus si sapeva poco, e racconta la sua storia. Mia mamma racconta che era immunodepressa, avevamo appena scoperto una malattia al sangue, e Barbara, la figlia di 50 anni, racconta come all'inizio di marzo ha iniziato la mamma ad avere disturbi intestinali, articolari, non sapevamo niente del Covid, e dopo qualche giorno è arrivata anche la febbre alta. E poi racconta appunto di come si lamenta del fatto che qualche giorno fa è arrivata una telefonata per avere i dati della fattura, e il conto insomma era piuttosto salato. Insomma vi lascio poi comunque la lettura dell'articolo. C'è ancora la cronaca sulle pagine di Fano di questa mattina, non si ferma al controllo e fugge, è stato arrestato un albanese che non voleva fornire le proprie generalità, i militari hanno scoperto che aveva anche 37,6 di febbre, e dunque non poteva, secondo il decreto, essere, stare fuori casa, dunque era malato. Al lavoro invece il team del sindaco Massimo Seri, sindaco di Fano, per fare Fano Covid Free, sono strategie che riguardano il turismo e il tentativo appunto di salvarlo. Chiesa ancora chiuse al culto e al pubblico, la protesta del popolo della famiglia di Fano, polemica con il governo per il decreto sulla fase 2. Da Fano il Corriere invece titola Buoni Propositi e Rimpianto sulla musica di Vapensiero, i consiglieri della città dei bambini e delle bambine lanciano un messaggio agli adulti, e oggi alle 16.15, prima seduta da remoto, cioè attraverso il computer del Consiglio Comunale di Fano, che replica poi tra due giorni. Addio a Solazzi, costruttore di ponti e gallerie. Si è spento Giovanni Battista, l'affettuoso ricordo su Facebook del figlio Giovanni, avvocato, per ricordare l'esempio di suo padre. 79 anni, da compiere a luglio, Giovanni Battista Solazzi è espirato martedì scorso, lo stesso giorno del cugino Giuliano Solazzi, a causa di una lunga malattia, aggravatasi nel corso della giornata precedente. Non si è trattato però di Covid nel suo caso. Solazzi abitava a Lido di Fano, è stato per lunghi anni una figura di riferimento nel mondo economico e professionale, sia nella nostra città che nella regione. Ecco gli scaffi per la finanza, in sicurezza, viaggio in due fabbriche del Fanese per capire come si lavora ai tempi del Covid. Turni ridotti, orari sfalsati e schermi parafiato. Tutte bianche e respiratore proteggono dal virus e dalle esalazioni. Sulla differenziata, sempre dalle pagine di Fano del Corriere, la differenziata di scarsa qualità e il riciclo reale meno del 50%. Le critiche arrivano oggi anche dal Forum per i beni comuni che appunto critica la gestione ambientale di Aset, il sindaco invitato a spingere per una nuova politica in provincia e poi c'è una petizione anche su change.org. La presa di posizione di Antonio Colucci, il fisioterapista infettato in ambulatorio che dice ora serve uno spirito comunitario e ne ha per tutti Antonio Colucci. dice per esempio i vertici sanitari e politici sottolinea si sono dimostrati non all'altezza del loro compito seppur i loro lauti stipendi producono larghe attese e i loro meriti a questo punto rimangono sconosciuti. I generali devono assicurare innanzitutto la sicurezza delle loro truppe altrimenti il nemico avrà gioco facile. Non mi piace la metafora guerresca con cui si è cercato di descrivere la nostra condizione. La ritengo falsa e manipolatrice forse utile a mettere a tacere ogni voce di dissenso e poi continua. Non si specula sulla salute dalla Val Cesano San Costanzo ma 0,50 centesimi è metà costo. La protesta della farmacia Scarponi per lo stock di mascherine già acquistato però si è detto lo ha detto anche il sindaco ieri che anche per le farmacie che hanno acquistato le mascherine a 2 euro, 1 euro e 50 e che da oggi devono venderle a 0,50 quindi a prezzi calmierati la differenza la mette lo Stato la differenza la paga lo Stato. Ora non chiedetemi quando, come e perché perché anche quando ho fatto la domanda ieri al sindaco giustamente non poteva saperlo ma comunque è un po' il problema di sempre che si decide una cosa ma poi non si sa bene come effettuarla come metterla in campo quindi domani o al più presto si cercherà di capire anche e come poi richiedere questa differenza allo Stato e soprattutto capire quando poi lo Stato pagherà questa differenza. Ancora dalla nostra rassegna stampa andiamo nella pagina di Urbino vacanze sicure sotto i torricini premi alle famiglie con i sanitari la proposta è di assoviaggi Scaramucci che dice per le prime cinque che prenotano buoni gratuiti a due componenti e sotto ampi l'associazione nazionale partigiani alla Lega di Fermignano c'è la democrazia l'associazione ammonisce anche i sindaci che dimenticano il 25 di aprile il Carlino Urbino riaprire l'Ateneo da ottobre è da vedere il magnifico lettore dell'università lo scienziato Vilberto Stocchi dice sono fiducioso ma ci sono ancora molte incognite la struttura allestita per quanto riguarda il laboratorio di analisi a Fano consente di fare esami approfonditi ai dipendenti raccordi per respiratori l'ITIS li stampa in 3D l'istituto urbinata al servizio degli ospedali parla il professore Riccardo Dini possiamo dice fare fino a 10 pezzi al giorno da Senigallia riprende l'attività istituzionale il consiglio in diretta per la città individuata la piattaforma video per i collegamenti multipli le sedute trasmesse in streaming entro maggio si dovrà ratificare la delibera di giunta sulle mancate entrate di marzo e aprile poi addio a Diamantini uomo di mare tante le regate con la sua folgore il porto dunque dell'arrore di Senigallia il lutto per la scomparsa di questo imprenditore grande uomo di mare e inseparabile della sua barca a barca a vela sotto invece ex operaio della Saccelit o Saccelit ucciso dal Covid Giancarlo Cucchi aveva 81 anni il ricordo di Montanari mascherine gel e soldi così pergola si difende alle raccolte fondi promosse dal comune hanno aderito in molti il sindaco Guidarelli dice allo studio interventi anche a favore dei commercianti e poi Colle al Metauro che questa sera si riunisce da casa con tutti i consiglieri ognuno delle rispettive famiglie questa sera alle ore 21 in videoconferenza c'è questa seduta del civico consesso la prima in questo periodo di emergenza da Covid-19 l'ordine del giorno prevede al punto iniziale le comunicazioni del sindaco Stefano Guzzi dopodiché l'assessore del bilancio Emanuele Primavera farà una relazione su un prelevamento dal fondo di riserva ordinario e poi a Cartoceto l'uso di suolo pubblico invece per i negozi è gratuito è un'iniziativa appunto annunciata anche dal sindaco Enrico Rossi l'ampliamento diventa dunque appunto gratuito il sindaco di Borgo Pace invece Romina Pierrantoni ha tagliato una per una personalmente le 580 mascherine anti contagio coronavirus per tutti gli abitanti del comune per garantire la salute dei suoi compaesani le sono serviti 40 metri di stoffa 100% cotone buone forbici e la complicità di altre 4 donne armate di pazienza e senso civico e con questa bella storia e con queste belle fotografie noi chiudiamo qui la nostra segna stampa vi ringrazio per averci seguito vi auguro come di consueto una bella giornata una buona giornata serena giornata per quanto possibile e vi do appuntamento a questa sera alle 20.30 con il telegiornale occhio alla notizia arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti